Ehi lo sai che su Fandomian puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie tv, anime e trovi di tutto Magliette, Funko Pop, Action Figure e con il coge Jacksad hai anche un piccolo sconto, link in descrizione Spidey è sempre i nostri pensieri e oggi 27 giugno è anche il compleanno di Tobey Maguire A cui facciamo tanti tanti auguri, non siamo qui però per parlare solo di questo ma per parlare dell'hashtag Make Remi Spider-Man 4, infatti oggi per celebrare appunto il compleanno di Tobey verrà lanciato l'hashtag su Twitter Make Remi Spider-Man 4, ovvero un hashtag con questa immagine che potete salvarvi Caricata su Twitter con l'hashtag appunto Make Remi Spider-Man 4 Taggatela Sony, Sony Italia, Sony Pictures, tutti i Sony possibili e immaginabili Per appunto mandargli questo messaggio per fargli capire che vogliamo Spider-Man 4 Lo so che la Sony questo già lo sa, la Sony questo già lo sa è ovvio Però meglio farglielo sapere più volte perché comunque più la Sony vede interesse in questo progetto Più sarà interessata appunto a realizzare questo quarto film Che mi raccomando dovrà essere con Sam Raimi ovviamente Non vogliamo Spider-Man 4 con Tobey ma senza Sam Raimi Non vogliamo Sam Raimi senza Tobey Maguire Quindi insomma il progetto deve essere con lo stesso cast, con la stessa produzione, stesso regista Insomma tutto quello che c'era una volta con appunto Spider-Man di Maguire e Sam Raimi È un progetto che magari la Sony è già preso in considerazione È una cosa che forse vedremo, non lo so, non lo so Intanto però noi facciamoglielo sapere Quindi mi raccomando ragazzi oggi su Twitter scatenate Facciamo andare in tendenza Mecremi Spider-Man 4 In America già lo so che andrà in tendenza tantissimo Però facciamo le cose in grande anche in Italia per una volta Quindi fatevi vedere su Twitter Ma anche su altri social Certo su Twitter un po' di più perché diciamo è il social per eccellenza Dove le tendenze poi si fanno notare molto di più Ma quello che ci interessa assolutamente è faremo il messaggio alla Sony Che ripeto probabilmente già lo sa Ma che lo sappia ancora Che lo sappia veramente sempre sempre di più In questo episodio ragazzi mi raccomando sostenete l'hashtag E noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti